...così attuali, il marito desoccupato è a casa, si occupa dei bambini ed è la moglie che va a lavorare lì. E questo è nuovo nel cartone di mare. Poi è anche la prima volta che si vede tutta una famiglia di supereroe con i problemi delle famiglie, cioè la figlia si ribelle, il bambino che deve imparare a scuola, il marito che non ce la fa da solo con l'ultimo neonato, dunque sono tutti dei temi nuovi in cartone di mare. Ed è bello che la Pixar segue la nostra società e ci propone questo.